Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. V'è un aspetto tra i tanti sul quale non si è ad oggi portata la debita attenzione e che pure ritengo sia imprescindibile al fine di comprendere e decriptare il reale diagramma dei rapporti di forza al tempo del globalismo mercatista. Le partite IVA sono di fatto la nuova classe lavoratrice nell'orizzonte di senso post-1989. Sono la nuova classe lavoratrice alla quale hanno tolto il contratto nazionale riducendola di fatto al rango di una pletora di finti imprenditori di se stessi. I titolari di partita IVA oggi sono costretti a vendere la propria forza lavoro per poter campare e sono al tempo stesso privati di tutte le tutele e le conquiste dalla maternità alla tredicesima che erano state il frutto delle conquiste della lotta di classe del vecchio proletariato. Proprio in ciò riposa il falso mito dell'imprenditore di sé. Egli avverte l'altro lavoratore come un concorrente e non come un compagno. Di più si illude di essere un imprenditore tanto quanto il milionario apolide o il delocalizzatore cinico. Quando in realtà egli resta stabilmente un subalterno, un subordinato, quasi sempre un super sfruttato e sottopagato. I prodigi della sempre encomiata globalizzazione stanno in fondo anche in ciò. Essa cannoneggia la classe lavoratrice e sempre favorisce solo l'aristocrazia finanziaria dei parassiti globali che vivono di usura, di leve del debito e di escogitazioni bancocratiche. Nella schiera delle partite IVA troviamo sia i vecchi lavoratori proletari, sia il vecchio ceto medio-borghese. Essi nel frattempo sono andati a costituire la nuova classe del precariato, che, figlio di un dio minore, è condannato alla flessibilità lavorativa ed esistenziale e che per di più non ha alcuna rappresentanza politica dacché degli interessi del precariato con partita IVA, condannato a lavorare a progetto e a vivere senza progetti, nessuno realmente si cura. La coscienza di classe solidale è dissolta, grazie al mito dello start-upper, nell'atomistica delle solitudini concorrenziali con partita IVA. Ebbene, per le partite IVA, il decretone del governo giallofucsia per fronteggiare l'emergenza prevede per marzo 2020 un totale di 600 miserrimi euro. Avete capito bene? 600 euro. Che è poi meno del reddito di cittadinanza, peraltro creato coi soldi delle suddette partite IVA e delle tasse che esse salatissime versano costantemente. Avete allora ancora dubbi sul fatto che il governo giallofucsia è vocazionalmente nemico dei lavoratori e anche nelle calamità lo dimostra pieno? Ancora non avete capito che la classe lavoratrice è quella delle partite IVA che per le sinistre fucsie arcobaleniche coincide di fatto con gli evasori e con i nemici? Ancora una volta le sinistre fucsia sono passate a difendere la parte del capitale contro il lavoro. E mentre ciò avviene, la Germania è pronta a stampare in autonomia 500 miliardi, anzi 550 miliardi per contrastare l'emergenza pandemica. La Francia si accinge all'occorrenza a nazionalizzare le aziende e a stanziare oltre 300 miliardi. Il governo giallofucsia italico per parte sua ha atto una manovra da appena 25 miliardi. E intanto gli italiani si accalcano con ebete euforia sui terrazzi a cantare azzurro e a ripetere che andrà tutto bene.